Non conosco i metri del Stato Mello, il ritmo delle parole. E sono dieci minuti che mi aspetto, hai capito? Guarda la vostra casa nuova della Nifala. Ecco un buon panino al Lampedù. E' un ristorante mai. Lo dico contro il mio interesse. E' un ristorante. Ti lascio la casa tutta per te. Ma non senti la mancanza dei tuoi genitori? La scientifica ha finito tutto il mio interesse. Purtroppo è come pensava lei. Di là c'è la madre. Ma che cazzo vuoi? 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 Poi tornare a casa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.